ho intenzione di chiedere a tuo padre di sposarmi e tu sarai la sposa pensi che sarei una bella sposa la più bella con un vestito enorme giusto piccola e ti lascerò scegliere il vestito se prometti di non dirgli nulla su quello che ci siamo detti qui d'accordo ho sempre saputo di poter contare su di te octopus farò la proposta al tuo padre in modo che lui non possa dire di no che cazzo significano voglio dire è tutto meraviglioso caro non hai idea di quanto vorrei dirti sì ma ho paura che i goezia non possano sposare sì sì lo so quelli con i cervelli di gallina le loro noiose tradizioni e tutta quella merda ma se ti dicessi che conosco un modo per risolvere la cosa diresti di sì io voglio dire certo che sì cosa hai in mente ti piacerà davvero vuoi tu stolas delle ars goezia prendere lady blaze come tua legittima sposa lo voglio dunque è questa la ragione per cui sua altezza ha chiesto il divorzio da te mia cara sorella non ha assolutamente gusto in fatto di donne o ma lei è quasi il tuo stesso carattere incontrollabile siamo rovinati